L'amministrazione comunale di Pescara porta a compimento il percorso sulla sicurezza in città, approvando in Consiglio Comunale il regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Sul territorio arrivano 332 telecamere di ultima generazione in 4K, gradualmente attivate per video e foto. Un impianto per garantire la tutela del patrimonio pubblico, monitorare il traffico urbano e rilevare situazioni di pericolo. Questa mattina è stata inaugurata nell'edificio Exomi alla presenza del sottosegretario di Stato all'interno Nicola Molteni, la Control Room, cuore operativo dell'intero sistema. Nel triennio 21-23 sono stati stanziati dal Ministero dell'Interno qualcosa come 65 milioni di euro proprio per aiutare le amministrazioni locali e i sindaci ad essere coprotagonisti della sicurezza dei propri territori. Quindi oggi inauguriamo un modello assolutamente virtuoso di efficienza, di operatività da parte dell'ente locale sul tema della sicurezza urbana. Il sottosegretario ha poi ribadito le nuove regole per le manifestazioni no green pass di questo periodo. C'è una direttiva del Ministro dell'Interno che dà indicazioni alle autorità locali di pubblica sicurezza per garantire che cosa? Il bilanciamento tra diritti, il diritto sacrosanto a manifestare, a esprimere idee, pensieri e anche dissenso. Il Ministero dell'Interno garantisce che ha il legittimo diritto di esprimere un dissenso ma accanto al diritto della manifestazione costituzionalmente previsto e garantito ci deve essere un diritto alla vivibilità, alla mobilità e al lavoro dei tanti cittadini che evidentemente con impegno e sacrificio stanno superando il Covid. Quindi ci sono indicazioni che vengono date al prefetto, al questore e al sindaco e ai sindaci in quanto autorità di pubblica sicurezza sanitaria e quindi verranno trovate le soluzioni migliori per garantire entrambi i diritti nel rispetto della legge. Si manifesta legittimamente rispettando la legge, con manifestazioni autorizzate e soprattutto senza violenza, anche perché gran parte di queste violenze vengono poste in essere nei confronti degli uomini e le donne dalla polizia di Stato e io dico sempre che chi mette le mani addosso a un poliziotto mette le mani addosso allo Stato e questo è francamente inaccettabile.